Ciao amici dei Rainbird, sono Steve e oggi vi faccio ascoltare qualcosa di assolutamente inedito. Vi farò ascoltare le tracce separate di Mike Beshera nella sua esecuzione di tragedy. Allora, le tracce non sono assolutamente mixate, sono nude e crude. E vi faccio sentire semplicemente il lavoro che ha fatto con le tracce separate, quindi non sono pampottate, non sono effettate, giusto per sentire le armonizzazioni che ha fatto un grandissimo lavoro, ragazzi. Allora, vediamo un pochettino. Ok, stiamo per arrivare, ha fatto 12 tracce. Questa è la traccia solista, doppiata, con le due tracce identiche, diciamo. Questa, secondo me, è la chicca, sentite? Qua di controcanti. Questa, perché stiamo? Questa, stiamo? Questa, stiamo? Questa, stiamo? Questa, stiamo? fantastico direi ragazzi come vedete ha fatto un lavoro allucinante di armonizzazioni come del resto l'ha fatto anche sul disco Queen takes King ma andiamo avanti ok tra poco arriva il resto ok ci siamo sempre le due voci soliste controcanto solite armonizzazioni voce alta mi piace particolarmente questa voce qua fantastico ciao ciao